Abbiamo una festa al mare a tema rosso, quindi adesso ci metteremo tre vestiti uguali, facciamo vedere come ci stanno. Michela è la prima che indosserà il vestito. La tutina. Ah, è vero, lei ha la tuta, che è simile al vestito. Ma che bella! C'è, troppo bella. La tuta la trovate di tanti colori. Guardate che spettacolo dietro. Adoro io. Sembriamo tre damigelle. Io più ergabibbo. Ma guardate adesso che dettaglio manca. Rossetto rosso. Che preferite? La tuta o il vestito? Troppo belli. Mi sto sentendo male perché Misocera non riesce a mettere se il rossetto. Non ridere! Non ridere! Prima volta in vita mia che metto il rossetto rosso. Comunque eccoci qua pronte con le borsette. Carine noi, molto carine. Rosse! Ma quanto è buona la matriciana? Questo invece è papà mentre mangia. Poi là potete osservare mia madre, Misocera e papà che ballano allegramente. Fratello e sorella che spettecolano. Poi ad un tratto Daniele si sentì osservato e... Ah, punto! Sì... Sì... Grazie a tutti